Percepiva il reddito di cittadinanza, ma non ne aveva diritto. Le fiamme gialle della compagnia di Pesaro hanno scoperto un altro furbetto, residente nel territorio pesarese, che per due anni ha indebitamente usufruito del sussidio destinato alle persone in difficoltà economica. L'esito del controllo ha messo in luce una situazione ben diversa da quella presentata e documentata, viste le diverse condotte emissive di cui si è reso protagonista il soggetto interessato. In particolare l'uomo è risultato essere titolare di partita IVA. E per l'anno 2017 ha conseguito redditi d'impresa per un valore di oltre 16.000 euro, che però non sono mai stati dichiarati al fisco. Negli anni 2017-2018 invece l'indagato ha vinto somme con i giochi online per quasi 18.000 euro, omettendo deliberatamente di riportare le informazioni dei relativi importi per il calcolo ISE del 2019 e 2020. Tali emissioni hanno consentito all'uomo di percepire indebitamente nel 2019 e di mantenere attivo anche nel 2020 il reddito di cittadinanza, per un importo complessivo pari a 9.615 euro. Il soggetto è stato segnalato sia alla Procura della Repubblica di Pesaro per aver indebitamente percepito erogazione e danno dello Stato, che all'Inps per il blocco del beneficio e il conseguente recupero del denaro incassato. L'attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza ha confermato il suo fondamentale impegno di contrasto nei confronti dei soggetti che accedendo indebitamente alle misure economico assistenziali fornite dallo Stato sottraggono importanti risorse destinate a persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizione di bisogno.